Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Paola Mariani, già ci conosciamo, probabilmente molti di voi già mi conoscono. Bentornati, ben ritrovati al secondo webinar di quest'anno 2021 dove parleremo di un nostro prodotto di punta che è il nostro incubatore a CO2 ICO. Staremo insieme per circa mezz'ora, insieme a me collaborano il signor Michele Cantarella che ci segue via chat e sarà sempre disponibile a rispondere alle vostre domande live. Nel caso in cui arrivassero milioni di domande vi chiediamo perdono, risponderemo eventualmente in seguito, ma risponderemo a tutti. Siamo chiaramente anche disponibili a rispondere a delle domande dopo, se vi venissero in mente dopo. Il mio collega Dominic Kupfer che si occupa della Camera e la mia collega Anika Herat che si occupa in generale dell'organizzazione dei webinar. Abbiamo scelto come secondo prodotto da presentare quest'anno il nostro ICO, incubatore a CO2, per un motivo ben preciso. Innanzitutto proprio in questo periodo troviamo che sia uno strumento cruciale, fondamentale da presentarvi perché è utilizzato nel campo della ricerca e poi anche perché è uno strumento di punta di Memmert per via della sua estrema sicurezza. Andiamo ora a vedere un film che ci introdurrà nell'argomento. Grazie a tutti. Ecco, avete visto, abbiamo introdotto l'argomento. Nel film avete visto un ovocita, una cellula uovo che si riproduce, che si divide e proprio questo è il campo di applicazione del nostro ICO, le culture cellulari. Quello che è assolutamente indispensabile per questo tipo di campo di applicazione è un ambiente protetto, il più simile possibile all'ambiente naturale e che consenta di mantenere nel lungo periodo, perché questa incubazione cellulare può durare anche settimane, i parametri di temperatura, umidità e anidride carbonica, il più adatti possibile al tipo di coltura in vitro. Andiamo ora a vedere in una presentazione come Memmert riesce a tenere sotto controllo in modo ottimale questi tre parametri. Eccolo qui, il nostro ICO, Trust the Best. Allora, innanzitutto Memmert sviluppa e produce strumenti per controllo della temperatura per la scienza già dagli anni 40. Per quanto riguarda il campo dell'anidride carbonica e dell'incubazione a CO2, siamo attivi da circa poco più di 20 anni. Che cos'è un incubatore a CO2? Un incubatore a CO2 è uno strumento, un incubatore dove viene riprodotta un'atmosfera fedele a quella naturale, che permetta lo sviluppo di colture cellulari e di tessuti, anche tessuti epiteliali per esempio. In questa atmosfera quindi bisogna riprodurre in modo ottimale per il tipo di coltura cellulare che viene a essere incubata, il parametri di temperatura, umidità e anidride carbonica. A cosa serve quindi un incubatore a CO2? Serve per fare esperimenti nei quali si desideri simulare i processi degli organismi viventi in un ambiente controllato. Tari esperimenti avvengono normalmente in vitro, latino, nel vetro. Si intende dire che la cultura di popolazione di cellule animali o vegetali in un mezzo nutritivo, un medium esterno all'organismo. Le cellule vengono immerse in appropriati mezzi di cultura, che sono detti anche terreni di cultura, liquidi e questi liquidi contengono disciolte le proprietà necessarie alle sostanze, le proprietà necessarie a mantenere le cellule in vita. L'incubatore deve essere in grado di proporre, fornire i parametri di temperatura, anidride carbonica e umidità appropriati a mantenere in vita in modo lungo, nel lungo termine, queste cellule. Questo processo infatti può anche durare settimane e è indispensabile che lo strumento, l'incubatore, garantisca la sicurezza dei campioni nel lungo termine. Con il nostro ICO, l'ICO di Memmert, è stato sviluppato appositamente per creare e mantenere questa atmosfera il più a lungo possibile. Vediamo come siamo riusciti, come Memmert ha risolto questa questione considerando i tre parametri uno per uno. Eccolo qui, il processo di incubazione ideale prevede una distribuzione ottimale della temperatura, una umidità relativa ideale e una concentrazione di anidride carbonica perfetta, ideale, appropriata. Quindi temperatura, umidità dell'aria, umidità relativa e il livello di CO2. Questi sono i tre parametri da tenere sotto controllo. Vediamo come il nostro ICO, Memmert, gestisce questo controllo, questa sicurezza. Primo parametro, temperatura. Cosa caratterizza il perfetto incubatore a CO2? Costanza e stabilità della temperatura in tutto l'abitacolo. Come ha risolto Memmert questo tema? Innanzitutto il riscaldamento nei dispositivi Memmert è su tutti e sei i lati. È un riscaldamento di tipo diretto, quindi senza camicia d'aria, camicia d'acqua e permette quindi una migliore omogenità della temperatura e è su tutti e sei i lati, compresa la porta e le guarnizioni della porta. La porta interna di vetro infatti è anch'essa riscaldata. Il problema principale in laboratorio è che è spesso necessario aprire la porta per controllare il carico. È sufficiente che la porta rimanga aperta 30 secondi affinché l'umidità relativa all'interno scenda dal 90% di umidità relativa a meno del 20% e anche la temperatura scende. Nel momento in cui la temperatura scende si creano dei punti freddi che normalmente si concentrano agli angoli. Questi punti freddi causano una evaporazione indesiderata. Vediamo che Memmert ha risolto questo problema innanzitutto con il riscaldamento diretto su tutti e sei lati che permette una omogeneità della temperatura e una velocità, un tempo di recupero all'apertura della porta che è molto breve e soprattutto anche la disposizione ravvicinata dagli elementi riscaldanti permette una dispersione di temperatura minima e come dicevo il tempo di recupero dopo l'apertura della porta è al minimo, di modo che la temperatura che normalmente è quella per l'incubazione dei 37 gradi sia sempre il più lungo possibile costante. Secondo parametro di importanza fondamentale è l'umidità, l'umidità relativa. L'umidità relativa è il rapporto percentuale tra l'umidità presente nell'aria e l'umidità massima possibile, quindi il grado di saturazione dell'aria. Un rapido raggiungimento e mantenimento dell'umidità relativa evitando che si crei condensa è l'obiettivo fondamentale di un incubatore a CO2. Un incubatore a CO2 ottimale richiede che l'umidità relativa richiesta venga raggiunta rapidamente dopo l'apertura e la chiusura della porta che come dicevo in laboratorio è un'operazione abbastanza frequente. Perché è così importante evitare la condensa nell'area di lavoro? Innanzitutto il mezzo nutritivo che è un liquido se cambia l'umidità cambia nella sua consistenza e quindi può provocare un cambiamento dell'umidità, cambiamenti nel mezzo nutritivo. Ma anche la condensazione incontrollata nell'area di lavoro di un incubatore a nitride carbonica può procurare un notevole rischio di contaminazione. Le condizioni di caldo e di umido infatti sono ideali anche per la crescita di microrganismi dannosi. Se la temperatura scende al di sotto del punto di rugiada di qualsiasi punto dell'incubatore, l'acqua si concentra in quel punto perché dove va più freddo va a concentrarsi l'acqua e la condensa e quindi si crea condensa, si possono creare batteri, funghi, virus. A volte anche per via di negligenza nel processo di lavoro sterile può succedere che entrino nei batteri nell'incubatore, per esempio con le mani attraverso i vestiti o germi presenti dal frigorifero da dove si sono estratte le provette e soprattutto le pareti e le porte sono possibili punti di condensa perché lì è più freddo e si va a condensare la condensa. Quindi la condensa va evitata perché cambia la concentrazione nel mezzo nutritivo, il terreno di coltura e quindi potrebbe danneggiare le cellule e per il rischio di contaminazione. Passiamo ora al parametro più importante negli incubatori al CO2 che è proprio il CO2, l'anidride carbonica. La concentrazione continua di anidride carbonica e quindi il mantenimento del valore di pH fisiologico ottimale è il parametro decisamente più importante tra tutti i parametri che caratterizzano un incubatore al CO2. Anche le minime fluttuazioni di parametri impostabili in un incubatore al CO2 possono essere fatali. Potrebbe verificarsi addirittura che i risultati dei test siano falsati, non riproducibili e che addirittura muoiano le cellule se la somministrazione è falsa. Il CO2 praticamente è necessario ogni qualvolta ci siano colture in vitro perché è necessario e indispensabile per mantenere il mezzo nutritivo vivo, è un elemento fondamentale. È praticamente un tampone che permette di mantenere il pH neutro. Se non si introduce CO2, il liquido va a diventare, il mezzo nutritivo va a diventare alcalino, quindi a inacidirsi, a diventare troppo acido e potrebbe provocare danni notevoli alle colture cellulari. Quindi la somministrazione corretta di CO2 è fondamentale. Dico corretta perché non è sempre lo stesso percentuale di CO2 che va inserita, ma ogni diverso mezzo nutritivo adeguato per le diverse colture cellulari ha una percentuale di CO2 adeguata al tipo di liquido e di mezzo nutritivo. Per esempio, come vediamo nel grafico, vediamo sull'asse delle ascisse, la nitride carbonica, sull'asse delle ordinate, le X, la pH, le linee blu rappresentano i diversi mezzi nutritivi necessari per diversi tipi di colture cellulari. Come vedete, la concentrazione di CO2 è diversa a seconda del mezzo nutritivo adeguato a ciascuna coltura cellulare. La soluzione di Memmert per il CO2 è una regolazione elettronica digitalizzata di anidride carbonica con un sensore a raggi infrarossi, non dispensivo. Memmert, sebbene ora diversi tipi di incubatori a CO2 in commercio abbiano il sensore a raggi infrarossi, possiamo dire che Memmert è stata una delle prime a utilizzare questo tipo di sensore e che sono di altissima qualità, una qualità tale che permette la sterilizzazione dei sensori stessi insieme al dispositivo senza doverli estrarre. Ecco qui, andiamo a vedere ora i modelli dei nostri ICO. Sono quattro misure, un rango di temperatura da 5 gradi sopra la temperatura ambiente fino a 50 gradi, le dimensioni vanno dai 56 a 241 litri di volume, hanno tutti il nostro software Asmocontroll, la registrazione dei dati e addirittura c'è la possibilità di aggiungere la licenza conforme alla FDA. C'è la possibilità, oltre al pannello di controllo, di aggiungere una batteria tampone, è una opzione che si chiama C2, che permette la visualizzazione operativa, misurazione e registrazione di tutti i parametri, controllo di CO2 e ossigeno per circa un'ora nel caso venisse a mancare la corrente. Allarme ottico e acustico standard, controllo della limitazione dell'umidità e controllo attivo dell'umidità, questa è un'opzione speciale, il controllo attivo. L'interno compreso tutti i sensori può essere sterilizzato con un programma già salvato dentro il dispositivo di 60 minuti a 180 gradi, il riscaldamento diretto a reazione rapida senza camicia d'acqua e senza camicia d'aria, le porte interne in vetro riscaldate e anche divise, è un'opzione speciale e la classificazione come dispositivo medico di classe 2A per la fecondazione in vitro e la biosintesi. Vediamo adesso dal vivo i nostri dispositivi, eccoci qui, ne abbiamo due, abbiamo quello da 150 litri, elico da 50 litri, come vedete hanno il solito materiale Memers, la solita qualità Memers, sono tutti in acciaio inossidabile, il nostro twin display, una opzione importante dei nostri dispositivi che va mostrata è che è possibile fare la manutenzione per esempio dell'elettronica semplicemente estraendo la parte dell'elettronica, il cassetto dell'elettronica, questo consente anche quando c'è la possibilità di impilarli i nostri dispositivi, con quelli più piccoli è molto più semplice, con quelli più grandi bisogna poi stare attenti all'altezza, però si possono impilare e quindi la manutenzione anche dei dispositivi impilati è possibile in modo molto semplice. Interessante da vedere anche che c'è la possibilità, che non c'è in tutti, di impostare l'apertura della porta da sinistra o da destra, a seconda di come sia la disposizione dei dispositivi in un laboratorio per esempio. Vedete poi le porte riscaldate, in questo caso si tratta di una porta di vetro riscaldata come sempre e anche con un'opzione speciale delle finestrelle che si chiama K4, affinché che quando si controlla il carico non sia necessario aprire tutta la porta e si ha un tempo di recupero dei parametri molto inferiore. Ecco qui. Andiamo ora a vedere nei dettagli la strutturazione come è il nostro ICO, come è composto. Innanzitutto, come dicevo prima, è classificato come dispositivo medico. Cosa significa questo? Il fatto che sia classificato come dispositivo medico è un segnale di altissima qualità. Memert ha da subito aderito alla legge e alla regolamentazione dei dispositivi medici e aderire, quindi essere classificati come dispositivi medici garantisce più elevati requisiti normativi e di qualità associabili ad un prodotto. Questo perché c'è un monitoraggio costante della qualità da parte delle autorità di regolamentazione esterne, non solo sul prodotto ma anche sulla produzione, cioè come produciamo questo prodotto. Anche se noi abbiamo deciso come member di proporre il nostro ICO sia come dispositivo medico, ICO-Med, che come dispositivo di tipo industriale, è ovvio che anche nel dispositivo industriale i stessi criteri di qualità e di produzione rimangono praticamente identici. Anche se il dispositivo medico è leggermente più costoso per motivi anche di documentazione e di registrazione, che sono comunque dei processi cari, il dispositivo ha le stesse qualità. Se siete interessati ad avere più informazioni rispetto alla regolamentazione dei dispositivi medici, sul nostro sito Memert trovate le maggiori informazioni. Comunque in generale il ICO è un dispositivo medico di classe 2A. Andiamo a vedere la configurazione standard del nostro dispositivo. Ci sono i ripiani forati in acciaio inossidabile, mentre nelle nostre stufe normalmente sono ripiani grigliati, negli ICO abbiamo deciso di porre i ripiani forati perché danno una maggiore stabilità e le cellule hanno bisogno di un ambiente anche più stabile. La vaschetta per l'acqua in acciaio inossidabile, nella versione standard, quindi l'umidità passiva. Il set di collegamento alla CO2. Un programma di sterilizzazione, inclusi tutti i raccordi e tutti i sensori, è incluso, è già inserito nel sistema, programmato nel dispositivo e questo programma di sterilizzazione è 60 minuti a 180 gradi. La porta interna di vetro riscaldata, tutta di vetro o c'è la possibilità con un'ozione speciale che si chiama K4. Questa porta che avete visto nei due dispositivi che vi ho mostrato precedentemente, sono delle finestrelle e tutti sono provvisti di un allarme ottico e acustico e in caso di superamento dei limiti regolabili individualmente di temperatura, CO2, anche di ossigeno, è un'opzione speciale ma si può aggiungere, è possibile quindi impostare questi allarmi. Riguardo il programma di sterilizzazione, la farmacopea tedesca fornisce come valore guida per la sterilizzazione dell'incubatore a CO2, aria calda a 180 gradi per almeno 30 minuti e anche l'istituto Robert Koch e la farmacopea giapponese nordica prevedono questo tipo di sterilizzazione. Per essere più sicuri, Memmert ha stabilito la programmazione per due volte il tempo consigliato, quindi il nostro programma è 60 minuti, non 30 minuti a 180 gradi e, ripeto, tutti i sensori di temperatura, di umidità e il sensore a infrarossi per l'anidride carbonica, non devono essere estratti, sono di una qualità molto alta e resistono alla temperatura di 180 gradi per 60 minuti. Vediamo quali opzioni sono disponibili con il nostro ICO, un'opzione molto interessante nel caso in cui ci si trovasse in zone dove a volte va via la luce, va via la corrente, è la batteria tampone, è una batteria posta sul control cockpit, è un'opzione che si chiama C2, che permette per un'ora, fornisce il CO2 e l'ossigeno, nel caso ci sia inserita l'opzione del controllo dell'ossigeno e continua a protocollare i dati del dispositivo, di come va avanti il dispositivo, i parametri. C'è un'opzione T1 che permette due attacchi di gas rapidi con commutazione automatica, quando finisce una bombola si attacca direttamente l'altra, l'interno elettropulito, il controllo attivo dell'umidità. Nella sua versione standard, l'ICO è fornito con una vaschetta d'acqua, fornito di una vaschetta d'acqua e un'umidità passiva, c'è la possibilità però di inserire l'opzione controllo attivo dell'umidità. C'è la possibilità di inserire l'opzione di regolazione e controllo della concentrazione di ossigeno, è l'opzione T6, è un'opzione che presuppone il controllo attivo dell'umidità ed è un'opzione che è molto interessante soprattutto per il futuro per quanto riguarda la fecondazione in vitro perché pur non essendo ora obbligatoria, Memmer prevede che nel futuro sarà, è comunque consigliabile per la fecondazione in vitro che ci sia il controllo dell'ossigeno, per il futuro Memmer pensa che sarà un'opzione indispensabile per fare la concentrazione in vitro. C'è poi l'opzione di sensore di umidità capacitivo che serve per misurare e visualizzare l'umidità relativa e l'opzione della porta interna con le finestrelle riscaldate. Andiamo ora a vedere le due soluzioni di umidità proposte da Memmer. Nella sua versione standard, l'ICO, nella sua configurazione standard, è proposto con una vaschetta d'acqua. Una vaschetta d'acqua è un tipo di umidità passiva, questo vale a dire che non si può controllare, programmare la concentrazione di umidità, ma semplicemente con una vaschetta d'acqua l'aria all'interno viene umidificata per evaporazione da una vaschetta piena d'acqua che dopo andiamo a vedere esattamente com'è. La temperatura target normalmente è intorno ai 37 gradi, l'umidità relativa in questo caso varia tra l'85% e il 95%, se il contenuto di umidità si avvicina al limite di saturazione, quindi oltre il 90%, la condensa non può essere praticamente evitata e quindi bisogna trovare una soluzione per limitarla e deumidificare. La limitazione dell'umidità in questo caso avviene attraverso un elemento Peltier che è posto sulla parete posteriore del dispositivo e mantiene la temperatura, in questo punto l'elemento Peltier, questa trappola di umidità, un pochino al di sotto della temperatura del punto di rugiada. Quindi l'umidità in eccesso va sempre a concentrarsi dove è più freddo, si va a concentrare sull'elemento Peltier, si condensa e le goccioline ritornano nella vaschetta e ricominciano il giro, l'acqua torna ad evaporare, se c'è troppa condensa la trappola Peltier fa in modo che si trasformi in acqua, vada nella vaschetta e il ciclo dell'acqua continua. Con questo tipo di umidità detta passiva non è possibile il controllo, c'è un controllo della condensa fornito dalla trappola Peltier, però non è possibile programmare, controllare l'umidità. C'è però la possibilità di tenerla sotto monitoraggio aggiungendo come opzione un sensore capacitivo di umidità che è l'opzione K6. Questo sensore permette di visualizzare l'umidità nell'incubatore ma non di programmarla e di definire un set, un target di umidità. Molto più sicuro e che permette un controllo molto maggiore è l'opzione dell'umidità attiva. Questa è un'opzione che si può aggiungere al dispositivo al momento dell'acquisto e questo permette tempi di risalita dell'umidità e di recupero dopo l'apertura della porta notevolmente ridotti rispetto alla limitazione passiva dell'umidità. Poi c'è un controllo digitale del contenuto di umidità relativa e un controllo è un feedback permanente tramite dati di misurazione del sensore di umidità capacitivo integrato. In questo caso la deumidificazione avviene in modo differente rispetto all'umidità passiva. L'umidificazione avviene attraverso un generatore di vapore posto sul retro che in modo dosato, dopo andiamo a vedere esattamente come, inserisce vapore. Il vapore surriscaldato è già sterile, quindi ancora meglio, e viene convogliato nella camera e così si umidifica. Per deumidificare c'è una pompa d'aria fresca. I grandi vantaggi, grandissimi vantaggi di questa opzione che si può aggiungere alla versione standard dell'ICO sono innanzitutto un tempo di recupero dopo l'apertura della porta estremamente inferiore, il controllo continuo del contenuto di umidità e il feedback permanente, quindi i protocolli sui dati e quindi sui protocolli. E fondamentale anche che nel momento in cui entra come vapore è sterile l'acqua, è già sterile, ci sono meno possibilità di contaminazione. Eccola qui, questo è il funzionamento del controllo attivo dell'umidità. L'acqua distillata, posta in una tanica all'esterno del dispositivo, viene pompata da una pompa peristaltica, passa attraverso un elemento riscaldante PTC con un tubo di alluminio e si trasforma in vapore surriscaldato sterile che entra nel dispositivo. Questo tipo di controllo attivo dell'umidità lo utilizziamo con l'ICO ma anche con altri dispositivi Memmert, per esempio nelle alcune camere climatiche. La deumidificazione avviene in questo caso non con il PETIE ma con una pompa d'aria fresca. La pompa viene attivata, convoglia l'aria fresca attraverso un filtro sterile all'interno e riduce così l'umidità relativa. Andiamo ora a vedere le possibili applicazioni dell'ICO, come abbiamo detto, la crescita di colture cellulari è l'applicazione base e per esempio nel caso di esecuzione di biotest allevamento anaerobico, in questo caso con la regolazione dell'ossigeno che diceva un'opzione aggiuntiva. La garanzia di qualità dell'acqua potabile, la coltivazione cellulare nella ricerca sulle cellule staminali, tentativi di espressione genica e la fecondazione in vitro. Andiamo ora a vedere dal vivo i nostri dispositivi. Eccoli, 150 e 50. L'ICO è di base fornito del nostro cosiddetto twin display, quindi il software AtmoControl. Potete vedere, quindi, andando a vedere il programma, che IcoSterry è il programma che è salvato già dal principio, questo 180 gradi e 60 minuti, per il quale si può sterilizzare tutto quanto complesi i sensori. Andiamo a vedere l'interno. In questo caso abbiamo l'opzione K4 con la porta porzionata, diciamo così, riscaldata, è bella calda. Vedete i ripiani perforati, che sono più stabili rispetto a quelli grigliati, che tuttavia nelle stufe permettono una migliore circolazione dell'aria. In questo caso abbiamo anche, guardate, ecco qui, la vaschetta dove si pone l'acqua con una magnete e l'umidità passiva. Nel caso in cui ci fosse l'opzione umidità attiva, la vaschetta non è presente. Adesso lo giriamo, andiamo a vedere il retro. Ecco, qui vediamo. Allora, in questo caso abbiamo gli attacchi per l'inserzione della CO2, in questo caso sono due, quindi ha l'opzione della commutazione delle due bombole. Vediamo una entry port, che è un'opzione speciale a parte. In questo caso l'ICO ha anche l'ingresso per l'azoto, per il gas inerte. Questo significa che c'è l'opzione T6, l'opzione per il controllo dell'ossigeno, che è regolato attraverso l'inserzione di gas inerte, in questo caso azoto. Vediamo qui anche un'opzione molto interessante, che è l'opzione Alarm Alert, che per SMS è possibile ricevere l'informazione nel caso in cui si superassero i parametri di temperatura, di CO2. Quindi in caso di allarme è possibile con questa opzione ricevere per SMS l'informazione. Importante anche da dire che anche l'interno è un acciaio inossidabile, molto facile da pulire. I nostri ICO, andiamo a vedere di qui che magari si vede meglio, visto che è più grande, sono caratterizzati da gli angoli arrotondati che permettono una pulizia molto semplice, molto rapida e anche le resistenze del riscaldamento sono arrotondate e permettono quindi di venire pulite molto facilmente. Ecco qua, i sensori, li vedete, sensori di temperatura, PT100, di umidità e del CO2 a infrarossi. Andiamo a chiudere. Ecco, quindi abbiamo detto, perché un ICO di Memmert, perché un incubatore CO2 di Memmert? Semplicemente per la massima sicurezza che permette alla coltivazione cellulare. Sicurezza garantita dalla, la temperatura, sicurezza sui tre parametri indispensabili per le colture cellulari, temperatura, umidità e CO2. Per quanto riguarda la temperatura, Memmert ha questo riscaldamento diretto, i sei lati riscaldati, la porta e le guarnizioni che permettono una distribuzione, una omogenità della temperatura ottimale. L'umidità disponibile in Memmert sia con la cosiddetta passiva con la vaschetta d'acqua, sia l'umidità attiva, l'opzione K7 opzionale acquistabile a parte, che è controllata in modo ottimale per evitare la condensa, sia nella sua versione passiva con l'elemento Peltier, sia nella sua versione attiva con la pompa d'aria fresca. L'umidità attiva, la versione umidità attiva diciamo che ha grandi vantaggi rispetto a quella passiva, perché il controllo e la sicurezza sono ovviamente maggiori, ha un costo superiore logicamente. Il CO2 controllato da sensori infrarossi, controllato e misurato di massima precisione e oltre a tutto questo la certificazione come dispositivo medico. Questo, come ho spiegato precedentemente, garantisce una qualità ottima e un controllo continuo anche esterno. È una grossa garanzia di qualità. Spero di avervi convinti, anzi sono sicura. Se avete delle domande, ripeto, potete sempre chiedere al mio collega Michele Cantarella e a me, anche dopo questo webinar. Riceverete le informazioni, le presentazioni e alcune brochure a riguardo chiunque si sia scritto per email. E cosa posso dire? Se avete delle domande, chiedete. Ci vediamo al prossimo webinar.